Ci troviamo all'interno del centro del nuoto di Viale Matteotti a Montevarchi. Come vedete fervono i lavori e prossima l'apertura, il 9 di marzo. Un percorso di alcuni mesi per il recupero. Da ottobre infatti si è aggiudicato l'appalto, la presa in carico di questo centro, il Consorzio Eco, che racchiude varie cooperative che gestiranno poi l'impianto. Quindi dalla reception alla vasca al punto ristoro. Siamo con Anna Balocco, che è la responsabile di Eco. Sì, siamo finalmente arrivati all'inaugurazione di questo progetto che ha coinvolto tutto il nostro Consorzio Eco in un lavoro di recupero strutturale di un patrimonio pubblico per dare a tutte le persone che verranno qua un momento di benessere. Benessere è dati dal ritrovarsi in un ambiente più in linea con i nuovi tempi, con il nuovo modo di vivere uno spazio sportivo come questo del centro nuoto. Certezza di trovare servizi che potranno essere per tutti, momenti di attività fisica per tutte le persone che vorranno goderne, per chi avrà bisogno per momenti di recupero, ma anche e soprattutto questa è la grande novità che vogliamo mettere nella gestione di questo centro, un luogo aperto per essere vissuto come un momento di incontro.